Ad essere puntuali si viene premiati, all'AMAP è successa a fine anno una cosa bellissima, ricevere un premio dal governo, un premio sostanzioso, perché? Sostanzialmente l'AMAP una volta acquisito il ruolo di gestore unico del servizio idrico integrato dell'ambito territoriale ottimale di Palermo ha programmato un piano di investimento, un piano di investimenti che doveva occuparsi della città di Palermo e anche della provincia su base pluriannale, al fine del rinnovamento del parco infrastrutturale delle reti da dover gestire. Chiaramente questo piano degli investimenti ha avuto un'accelerazione dovuta alla possibilità di accedere ai fondi messi a disposizione dal piano nazionale di resilienza e di ripresa, di ripresa e di resilienza, il cosiddetto PNRR, e sostanzialmente sono state cofinanziate due progettualità che erano state inserite su questo piano degli investimenti per circa 87 milioni di euro. Parliamo di due impianti di potabilizzazione, uno è quello del nuovo impianto di potabilizzazione delle sorgenti presidiana, cofinanziato per un importo di 49 milioni di euro, che sostanzialmente porterà nella città normanna e non solo circa 500 litri secondo, e che soddisferà la domanda di tutti questi comuni, oltre al comune Cefalù, anche Lascari, Termini Mereise, ma anche la zona industriale di Termini Mereise, e il cofinanziamento della realizzazione dell'impianto di potabilizzazione Iato dell'impianto Poma, per un importo di 37 milioni di euro. Il meccanismo della premialità nasce dall'istituzione, da parte del Ministero, di un fondo per l'avvio delle opere indifferibili. Attraverso questo fondo il Ministero va a ricoprire gli eventuali costi aggiuntivi, e quindi in ottica di aumenti dovuti all'aumento del preziario regionale delle materie prime. Sostanzialmente l'AMAP nei due progetti ha ricavato un residuo di 12 milioni di euro, pubblicando il bando entro il 31-12 del 2022. AMAP non è più Palermo, AMAP è provincia di Palermo, gestite ormai più di 60 comuni, alcuni tra i più grandi anche della provincia. Fra questi citiamo Bageria, Termini Mereise, Monreale, Cefalù stesso, sono comuni che sono grossi come utenze, ma anche come estensioni territoriali. I prossimi investimenti cosa prevedono? Un altro progetto che si chiama ReactEU, il nostro progetto che è stato inserito in questo maxi progetto che era destinato alle regioni del sud Italia, è stato cofinanziato dall'Unione Europea per circa 59 milioni di euro. Questo progetto prevede interventi di sostituzioni integrali di sottorreti, parliamo di sottorreti Politeama per intenderci per la città di Palermo, ma anche l'intera sottorrete di Partinico e in più abbiamo all'interno del progetto altri bandi che prevedono l'intera sostituzione del parco contatori, quindi parliamo di Smart Meter e quindi con contatori che vengono letti da remoto direttamente dall'azienda che verifica anche eventuali perdite all'interno pre e post contatore e all'interno direttamente dell'utenza. La città di Palermo oggi ha una copertura di rete per circa l'83%, diciamo in tutte le zone arriva acqua 24 ore al giorno, non ci sono grosse criticità, quando parliamo di perdite dobbiamo differenziare le perdite, dobbiamo dire esattamente quali sono e noi abbiamo anche perdite amministrative, perdite amministrative dovute chiaramente ad altro, possono essere contratti con l'utenza non regolarizzati, procediamo con distacchi per utenze morose, abbiamo problemi di prelievi coatti della risorsa idrica non a norma. Che tipo di strumenti necessitano per evitare che questo fenomeno si allarghi sempre di più? Il contatore che viene posizionato direttamente nell'utenza non farà soltanto da controllo sul consumo dell'utenza ma bensì anche determinerà e controllerà le pressioni che avrà quell'utenza, quindi nel momento in cui ci saranno più utenti collegati ad un contatore è chiaro che immediatamente l'azienda riceverà da remoto un alert. Grazie. 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 Grazie a tutti